allora con questa storia rispondo a tutte le persone che mi stanno scrivendo comprensibilmente con una grande insistenza per sapere che cosa comporta saturno opposto all'ascendente quindi sto rispondendo a tutte le persone con l'ascendente vergine anche se avete all'ascendente la luna anche il sole altri pianeti ragazzi l'effetto di saturno al discendente sarà rafforzato allora quando saturno una volta ogni 30 anni ogni 28 anni passa nella nostra settima casa fa piazza pulita di tutti i rapporti sia lavorativi che matrimoniali interpersonali che in quel momento secondo la nostra evoluzione non servono più cioè sono vecchi hanno fatto il loro corso quello che dovevano fare per farci crescere quello che ci dovevano insegnare ce lo hanno insegnato e quindi finiscono parlo di rapporti lavorativi di matrimoni di relazioni di convivenze di amicizia la settima casa il discendente di cui vi lascio il link no perché c'è la spiegazione di ascendente e discendente è il nostro modo di relazionarci con gli altri ovviamente non succede soltanto un tabula rasa no perché ci metteremo paura tutti i rapporti che sono validi che sono iniziati prima sia lavorativi che interpersonale quindi di amore di fidanzamento se sono seri vengono consacrati con l'assunzione a tempo indeterminato con una grande promozione è un upgrade quindi c'è anche il matrimonio la convivenza che ne so ragazzi figli si compra a casa insieme no si fanno dei progetti a lunga scadenza perché saturno è il signore del tempo quindi porta le cose importanti a duratura situazione ok quindi si consolida quello che è importante quello che è valido quello che ha linfa vitale quindi anche amore e finisce quello che non serve a nulla altra cosa c'è se ovviamente con saturno posto all'ascendente che cosa accade che la polarità le situazioni gli insegnamenti si spostano da noi cioè dalla nostra persona dal nostro ego e vanno verso gli altri quindi per assecondare questo transito dedicarsi agli altri dedicarsi a migliorare i rapporti con gli altri quello che diamo nei rapporti saturno chiede crescita chiede rigore chiede coerenza chiede non di costabilità ma insomma come dire affidabilità rispetto maturità ok quindi se ci sono delle nostre intemperanze nei confronti degli altri nel nostro modo di relazionarci agli altri saturno le potrebbe portare a galla come attraverso problematiche c'è una persona si comincia a scocciare ci dice guarda non mi va bene più quello che fai oppure un datore di lavoro ci richiama i colleghi iniziano a insolentirsi perché perché noi non cresciamo mentre quello questi tre anni molto formativi sono proprio un momento di grande crescita di grande maturità e anche a volte di sacrificio nei confronti degli altri perché comunque chi ha l'ascendente nel segno della vergine ha un discendente in pesci quindi in qualche modo si è incarnato anche per dare molto al prossimo no e a volte quando lo ama mettersi anche al servizio tradotto può essere che una persona abbia bisogno di maggior cura di maggior affetto di maggior accoglienza con saturno in pesci opposto all'ascendente vergine dobbiamo imparare a dimostrare quell'elasticità quell'amore e quindi a mettere anche in pratica l'amore che professiamo e a dimostrarlo agli altri quindi se ci sarà qualcosa che noi sbagliamo sicuramente nel rapportarci col prossimo sicuramente ce ne renderemo conto nei prossimi tre anni quindi poi quello che emergerà ragazzi dipende da noi dipende assolutamente da noi sia da quello che facciamo da quello che abbiamo messo sul piatto da quello che trova saturno da raddrizzare o meno quindi più la persona è consapevole di se stessa più capirà con una certa velocità l'universo che la redarguisce si corregge più invece continua a sbagliare tutti i giorni finché non arriva magari un come dire un'esperienza che le fa comprendere meglio cosa cosa andrebbe fatto rispetto al passato se ci sono molti pianeti in prima casa in vergine la luna il sole significa che la persona non se ne rende conto ma è molto accentrata e molto accentratrice cioè un po forse egocentrica un po ego riferita non me ne vogliate ma i pianeti in prima casa sono un'aggiunta all'io ok quindi quando ci sono molti pianeti in prima casa e magari ce ne sono pochi o meno zero in settima la persona istintivamente senza neanche rendersene conto penserà ai propri bisogni e a poco da dare all'altro quindi quando saturno passa all'ascendente se ci sono dei conti in sospeso delle cose da da far succedere insomma come dire della dell'amore delle attenzioni da restituire possono essere richieste in quel periodo però ripeto dipende tutto da noi e da quanto siamo consapevoli quindi un grande in bocca al lupo e tenete sempre un diario perché alla vergine fa bene scrivere molto si consapevolizza prima un bacio